chiedo scusa per loro nessun problema la pasta italiana di sugo so qua e qui non è come a casa nostra conosciamo poca gente i bambini lo patiscono un po' a questo ogni persona nuova per loro è una festa guarda che mi fa piacere che entrano e chiedo scusa pure per mia moglie e di che è tanto carino carattere difficile non ascolta nessuno ho trovato pure questa lo faccio in caffè e perché no? posso fare una domanda? dimmi ma con tutto quello che è successo in passato perché ora stai qua in questo posto in un posto di merda come questo? e tu perché stai qua? la verità perché non ho coraggio di cambiare le cose se lo avessi forse mia moglie tornerebbe a volermi bene e se la pensi così perché non fai qualcosa? perché il coraggio non si compra io non mi chiamo Ciro il mio coraggio è solo un altro lato della paura la sera quando i negozi chiudono fanno i conti della giornata giusto quella è la mia paura è la mia paura è la mia paura Grazie.